La campagna istriana I vigneti e gli oliveti I piccoli villaggi agglomerati Le alte rocce del ciglione carsico La natura intatta della valle del fiume carsico Dragogna Donano un fascino unico a questa vivace regione del Mediterraneo Le curiosità sono innumerevoli La magnifica parete di roccia alle spalle di Ospo È un vero paradiso per gli arrampicatori Amanti di imprese audaci, ciclisti ed escursionisti Vi invitiamo a godervi le bellezze dell'entroterra capodisteriano E da rifornirvi di nuova energia Visitate i misteriosi menhir Oltrepassate le mura della chiesa di Crastoglie E scoprite i famosi affreschi medievali La danza della morte L'istria ha l'anima di un pittore Numerosi punti panoramici e incontri inaspettati con la sua ricca storia Offrono scene incredibili Buongustai e golosi sono entusiasmati dalla cucina istriana Tartufi, pasta, verdure mediterranee, selvaggina, pollame Conditeli con ottimo olio di oliva La cui qualità viene riconosciuta anche ai concorsi più esigenti Per un piacere completo Concedetevi l'autotona Malvasia d'Oro Oppure il Refosco di color rosso rubino Uno dei tre vini mondiali di alta qualità Con il più alto contenuto di antiossidanti Con il Moscato dolce Brindate alla sfilata di dolci eccellenti L'istria Pittoresca e colorata come lo sono le sue verdi colline I villaggi e gli incredibili panorami Qui troverete un mosaico di culture E godrete nell'immaginazione della natura Vivete l'istria in mezzo alle onde blu e verdi Vivetela nell'entroterra di Capodistria Capodistria L'istria in miniatura L'istria in mosaico Cosa axic Feliz Capodistria